Dotare la Regione Umbria di un sistema elettorale che salvaguardi il principio di governabilità, assicurando contestualmente un'adeguata rappresentanza e rappresentatività dell'Assemblea Legislativa. Parte da questi presupposti la proposta di legge elettorale, presentata a Palazzo Cesaroni del gruppo consigliare di Umbria Popolare Nuovo Centrodestra. È stato il capogruppo Massimo Mantovani, insieme a Massimo Monni, ad illustrare la proposta che parte dal doppio turno per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale in caso di non superamento nel primo della soglia del 40%. Due circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle due Asl, voto disgiunto, preferenza unica, soglia di sbarramento al 3%. Nella composizione delle liste ciascun genere dovrà essere rappresentato per almeno il 40%. Mantovani, dopo aver evidenziato la sostanziale condivisione delle altre forze del centrodestra, ha puntato il dito sulla proposta di legge elettorale espressa dal Partito Democratico, definendola a forte rischio di incostituzionalità, visto che la stessa consulta, ha detto, si è già espressa in modo chiaro in merito ad analoga situazione a livello nazionale. Monni ha assicurato infine la disponibilità del suo gruppo ad allargare la discussione a tutte le altre forze politiche, per aggiungere una sintesi che possa trovare in aula l'unanimità dei consensi.